Per la prima volta da cinque anni le previsioni turistiche per l'estate in Italia hanno segno meno. Tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all'estate 2018. Il calo riguarda le prenotazioni degli italiani ma anche dei turisti stranieri. Tra le cause sicuramente le condizioni meteo rimaste negative fino a poche settimane fa e le ripartenze del turismo sul Mediterraneo che portano via turisti dall'Italia. A dare l'allarme CST Assu Turismo Confesercenti, le aree del nostro paese con le proiezioni meno favorevoli sono il centro e il sud isole. Resistono bene le aree del nord-est anche se con una leggera flessione.